innanzitutto grazie grazie a tutti per la grande adesione al canale grazie ancora per essere per seguirci per commentare grazie veramente perché solo grazie a voi ovviamente possiamo crescere da soli non avremmo potuto fare assolutamente nulla io mi scuso sempre per la mia location che è fatta in auto stiamo studiando una location un pochino più professional più carina però purtroppo io lavoro con la macchina e di conseguenza quando ho quei 10 minuti di pausa così mi fermo e faccio il video quindi abbiate un po di pazienza cerchiamo di organizzarci meglio nel tempo e di fare le cose fatte bene intanto vi ricordo mi raccomando sempre iscrizione al canale iscrizione al canale pollicione in su e commentate commentate perché ho sempre detto un video senza i commenti adeguati è come una carbonara senza l'uova con l'aggiunta di panna una schifezza ok noi siamo una community dobbiamo parlare confrontarci fra di noi è importantissimo io e gabriele ci teniamo questa cosa noi amiamo il confronto con le persone vogliamo parlare con gli amici milanisti perché così deve essere non ci mettiamo su un piedistallo siamo al vostro livello bene argomento del giorno noi sappiamo che la difesa in questo momento soprattutto a livello contrattuale e anche fisico è abbastanza precaria perché l'unica certezza che abbiamo in questo momento è tomori romagnoli ragazzi mi spiace per chi lo ama per chi lo apprezza e tutto quanto ma purtroppo andai via giugno non c'è la non c'è la quadra non si trova la quadra ragazzi non si trova perché il 5 e mezzo li vuole 6 e il milano gli offre la metà quindi non c'è possibilità di accordo sicuramente andrà via se già preaccordato verbalmente informalmente con la lazio questo è un dato rifatto seconda situazione kier kier purtroppo è rotto ai box lo rimarrà quantomeno fino a giugno luglio poi ci sarà la ripresa la riabilitazione e quindi puntualmente passeranno quegli altri due tre mesi due mesi magari un mese e mezzo vediamo però non sarà disponibile prima di settembre ottobre in quest'ottica il milan si è buttato appunto come già abbiamo detto mille volte come tutto il mondo ha detto su botman che è un giocatore di classe pronto un giocatore forte un difensore forte è la classica la classica il classico giocatore che il milan vuole è il prospetto il prospetto del milan vuole il classico giovane forte affiancato all'uomo di esperienza perché il milan ragione in questi termini e il milan vuole ragionare in questi termini ma sempre in questi termini noi in casa abbiamo già un giocatore così sempre per quanto riguarda la parte difensiva e stiamo parlando di un giocatore molto forte un giocatore che è un futuro eccezionale chi è si chiama pierre kazee romel chiate pierre kazee romel chiate e uno può dire voi direte chi cazzo è questo è calulu ragazzi è semplicemente il nome completo di calulu è il nome completo di calulu calulu un giocatore secondo me eccezionale un giocatore con un futuro roseo un giocatore che può fare tanto e può dare tanto un giocatore sempre a disposizione che ha sempre lavorato a testa bassa educato non ha mai detto una una lettera fuori una parola fuori posto e di questo comunque se ne sono accorti se ne sono accorti anche maldini massara la dirigenza in generale si è accorta e quando se ne accorta ma se ne accorta già da tempo dal 2020 quando lo presero a settembre 2020 lo prese il milan già si accorse di quello che era perché se no non lo prendeva ma ora più che mai dopo questi due annetti di lavoro maldini massara hanno deciso che calulu era ora che facesse un passettino in avanti in che senso a livello economico infatti il milan ha proposto a calulu un allungamento un prolungamento del contratto fino al 2026 quindi un ulteriore anno perché la scadenza naturale era in 2025 e inoltre gli ha proposto di raddoppiare il suo ingaggio da 600 mila a ben un milione 200 mila euro il ragazzo è rimasto sbalordito è rimasto sorpreso ma anche tutti noi siamo rimasti sorpresi perché nessuno si aspettava questa mossa del del milan probabilmente è una mossa per fidelizzare i giocatori no per valorizzarli per dargli per dargli il contentino tra virgolette ma non in senso cattivo per fargli capire cazzo giochi bene fai bene meriti meriti quello che vali ed è giusto così ma poi si diamo si diamo due milioni e mezzo a bocca yoko e diamo un milione a ballo ballo nel ripostiglio che sono purtroppo mi spiace dirlo per chi li apprezza ma in questo momento questo momento sono due cessi a pedali ragazzi sono giocatori inutili alla causa non vogliamo dare un milioncino e due a calulu ma non li merita tutti un giocatore poliedrico che ti gioca su tutta la fascia un giocatore che può fare terzino destro terzino sinistro centrale e centrale difensivo un giocatore che pioli ama perché pioli lo ama perché gli è sempre utile quando è nella merda quando è la cacca passatemi il termine pioli utilizza calulu perché calula un giocatore che un domani sarà fortissimo ora vale già 10 milioni comprato un milione e questa è già una plusvalenza pazzesca 10 milioni vale calulu io sono contento per lui ma credo anche voi e spero che la direzione interpreta sia quella giusta spero che calulu nonostante questo rinnovo imminente poi non si monti la testa ma rimanga coi piedi per terra ma del resto se uno ha un carattere difficilmente lo cambia se uno ha una testa ragiona con la sua testa non va dietro ai soldi e ogni riferimento è puramente casuale a domani adios